Bene, questi speed date sono il modo migliore per conoscere in fretta un mucchio di pollastre. Ora vai a chiappa! Allora, tu dove vivi? Ovunque, in tutti i posti. Auspicabilmente anche in te. È un po' imbarazzante, ma accetteresti una persona che fuma? Oh, sì! E tu accetteresti una persona che vaga nel deserto dicendo alla gente come vivere? E dimmi, hai passato un buon venerdì? E questa che cos'era? Una battuta? Chiudi la bocca, puttana! Com'è questo vino? È eccezionale! Quello è il mio sangue! Da dove vieni? Israele!